Località La Maielletta, altitudine 1650 metri. Che nevi che in quota non è affatto strano, ma la cosa bizzarra è la contestualizzazione dell'evento atmosferico 6 maggio 2019. Una neve così capricciosa non si vedeva da anni e in effetti è dal 5 maggio del 1957 che l'Italia non era interessata da una simile perturbazione che ha portato neve e gelo a primavera inoltrata. Questa instabilità, ci dice il nostro esperto meteo Giovanni De Palma, durerà fino alla serata nottata di oggi, quando un promontorio di alta pressione porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma le temperature rimarranno ancora al di sotto della media stagionale anche per la giornata di domani. Siamo immersi nella nebbia e quindi dovete fidarvi di me e di Diego Martelli che è dietro la telecamera. Siamo effettivamente sulla Maielletta, 1650 metri di altitudine, dove ha ripreso anche da poco a nevicare. Qui la temperatura è di meno uno, ma vi assicuro che se ne percepisce una nettamente inferiore perché c'è anche del vento che soffia, quindi fa ancora più freddo di quello che è realmente. L'evento climatico straordinario che in queste ore ha imbiancato di nuovo i rilievi non consentirà comunque di riaprire le piste da sci, fa sapere il gestore dello chalet La Maielletta, Venanzio Lagatta, trattandosi di una neve piuttosto farinosa che non consentirebbe di sciare in sicurezza. Tant'è che i gestori degli impianti qui si stanno proprio organizzando per mettere in piedi quelle che poi saranno le attività sportive nettamente primaverili ed estive, ammesso che davvero la primavera possa partire. Dal resto, dicono i titolari delle strutture di Passo Lanciano, qui nessuno si ricorda di una nevicata di maggio, nonostante la neve sia durata spesso fino a maggio. E che sia una neve fuori stagione è chiaro a tutti, perfino ai due irriducibili e temerari escursionisti che abbiamo incontrato sulla strada per il rifugio Pomilio e che hanno deciso di regalarsi un'ultima ciaspolata a primavera inoltrata. Per noi questa è una cosa normalissima perché andiamo a caccia, siamo appassionati di montagna e la frequentiamo in tutte le stagioni. Oggi stavamo a casa, avevamo qualche ora da dedicare, abbiamo voluto fare, sperando, l'ultima ciaspolata così, giusto per passare un po' qualche ora nella natura. Ma non è azzardato andare in montagna con questo tempo? Perché poi la montagna è imprevedibile, insomma, il tempo cambia in un attimo e non avverte nessuno. Dipende dall'esperienza, da quello che si fa. Noi ovviamente non lasceremo la strada che è visibile, grazie ai paletti ovviamente non andremo a fare fuori percorsi perché con questa visibilità poi la gente si è persa, non è la prima volta che la gente si perde più su della maielletta. Va bene, noi vi lasciamo andare allora, vi auguriamo una buona passeggiata in questo lunedì 6 maggio 2019 che dicevamo più che 6 maggio sembra davvero 6 gennaio. Fenia del 6 gennaio. Buona passeggiata. Buona voi, ciao, arrivederci.